Inizia l'ultimo livello di Archette 2, questa volta seriamente. Prima di iniziare devo comunicare una cosa. Che sono di ero? Che farò Assassin's Creed Brotherhood. Ok, comunicato questo... Si ruota? Perché l'importante è ruotare. Esatto, va... No! Sono riuscito a morire come un idiota! Ehi, che cacchio ne so, ah! Merda! Ok, qua dovremmo affrontare il boss finale! C'è l'azzarici! Non deve essere piacevole! No! 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 Che diavolo... Oh! Oh! Parliamone! Mori, 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 mori! Non è morto! Non sbalate, fermi! Lui è mio! Mi spiace, amica! Non so niente... Non so niente... Non so niente tipo, eh! E quindi finisce a certe due alla prossima! Bip, bip! Ma anche no! No! No, 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 non è possibile! Oh my god! Si può rigenerare come Majin Bu! Oh oh! Perché non scappo adesso? Corri, scappacellanza! Sei seguito! Userò la pistola! Ok, ti ho fatto male! Ahia! Forza! 2 e quindi qua aspetta aria mi ha sparato da dietro c'è mi è sparato da dietro mi dice affrontami da uomo solo 6 ma ok primo filmato attivato aria 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 mi sta sterminando cappaciccio no me la fate spavere per prima la foto o cacchio io direi dati di darmi a gambe no cori cori o cacchio aria aria grassa schifosa perfetto li ho fatto male ecco e vai oddio mi vuole pestare corri oddio c'è oddio ho paura a perfetto non se n'è andato perfetto sta crepando ma anche no manco manca un altro filmato in cui dice draaaaake aria 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 no oddio no scappa nooo e dai dannazione devo rifare tutto da capo senti smetti di ridere se no ti faccio fare il gioco non sto scherzando devi farlo finchè non lo finisci senti non lo faccio veramente senti dai amico rilassati faccio una bella camomica forza no ma io tagliare fino a ok riparto da qua perchè non so precisamente la nome del suo oh cacchio scappa scappa corri scappa c'è il nemesis anche se lo c'entra dentro comunque devi scappare dannazione no non morire non morire aia perfetto scappa ora scappa 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 perchè non voglio crepare in corpo scappa scappa no però non è non è un buon segno se fa così sta esplodendo una mecca aia no non l'ho colpito ok speriamo in gesù cristo che ci ha ok adesso voglio sentire la carica di gesù cristo perchè non ne posso più di questo boss idiota non devi andare lì citazione di umberto voglio sentire la carica di gesù cristo sto a ecco no cori si promesse l'ho salvato a fortuna spero di farcela si ma questo questo ha granate infinite questo è il problema eccolo no scappa codargo ma tu sei tu sei praticamente semi mortale posso ucciderti soltanto se ti faccio esplodere se ti faccio esplodere in faccio e così scappa e dai non ne so non sopporto più questo livello questo boss oh cacchio no non posso non finire il gioco da neanche in due in un'ora fai subito dannazione ecco bellissimo sul fuoco oddio 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 ok ho fatto male si ma questo posto è è a ecco colpito due colpi è andato il creatore è andato il traffico di cazzo è andato è morta è finita e dai ci ho fatta ecco questa vittoria è stata sudata io non sono matematico non mi caglio conto è una compassione del dieta eh farlo ah no non ne ha il colaggio vero questo no ma loro sì eh ok ok quando lo scappare con un dannato santi santi s 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 as ore s s w talk county visual scappa è che ce la faccio dai che ci sono seccato scurri sclero perfetto ci ho fatto ecco ce l'ho fatta ok guardi lascio ok quattro ci sta l'ultimo filmato ho salvato il mondo ok ce l'hai ci stiamo mettendo troppo no no ora la servo ora la sacrificiamo ora resisti non abbandonarci andrà tutto bene andrà tutto bene nooo Elena non puoi Elena nooo chi è Elena di troia o Elena quella troia oh senti questa senti questa partuta c'è uno che fa e mi presti 7 7 euro per far cosa per andare al cinema e per vedere che cosa la caduta di troia perchè non vuoi se fai lo sgambetto a tua madre e risparmi sti 7 euro eh già va tutto schifosissimo dovresti fare l'eroina più spesso ma anche no dovresti farti l'eroina no 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 dimmi una cosa Nate dimmi l'ami CHEEEEEEEEEEE no mi dispiace no non ti preoccupare davvero ma fatti fatti un favore con voi diglielo no ed è lei più grande stavolta non cammi andarmene ma ammettilo ti mancherà questo culo eh lo so lo so lo si beh c'è qualcuno che dovrebbe essere a letto no paziente difficile testarda come un muro eh sono testarda sono irrequieta quindi niente zaffero gigante te lo ripeto no ne sei sicura si è solo una metà frasale le metà frasi non pagano i debiti dove saranno i debiti dove saranno i debiti da un'azione basta effetti già aggiungi un quarto di dolore avrei 25 senso eh dove è andata club a dopo e pensi che adesso te la dia hai fatto bene penso che lo proverebbe cioè gloria si approva quest'articolo e quindi eh l'autore di quest'articolo eh avrò una morte veloce non ci ho ancora pensato come no certo se per questo nemmeno io bene allora in una scala da uno a dieci quanta paura avevi che morissi il super night user quattro si perché un quattro si per me tu eri un otto un otto si senza dubbio un otto un otto coi guardiani erano un otto stai scherzando bene erano terrificanti allora chi un dieci hai bagliaccio bagliaccio di piaccio me ne può piaccio la mia morte io io ho i bagliacci ho i bagliacci ho i bagliacci pensavi che fossi morta no tu pensavi che fossi morta tu pensavi che fossi morta si invece ti ho posto di piaccio ma se c'era il sole pieno Elena era svenuta il sole ma se era svenuta vabbè ho le tue lacrime in un vaso ho le prove quattro quindi finisce la chat 2 il comode ladri finalmente finisce eeeh eeeh